Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale TV City. Ieri il Vaccine Day con le prime 720 dosi di vaccino Pfizer è arrivato in Campania a vaccinarsi oltre al personale sanitario anche il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, scelta che ha suscitato innumerevoli polemiche. E tutta Italia invece in zona arancione a partire da oggi, dopo le chiusure nei giorni festivi, con i negozi che riapriranno. Queste le limitazioni in vigore fino a Capodanno e consueto appuntamento con l'emergenza Covid nel Vesuviano, dove continuano ad aumentare i casi di contagio anche nei giorni festivi da Natale in poi. E passiamo ora alla cronaca con l'arresto di un latitante Antonio Di Martino, catturato dalla polizia mentre era a fare visita ai parenti a Gragnano. E invece la Guardia di Finanza ha smascherato una coppia di coniugi dedita al contrabbando di sigarette. Recepivano il reddito di cittadinanza ma nascondevano in casa centinaia di migliaia di euro in contanti. E in conclusione Virtuarte Ottava, una mostra che porta nelle case di torresi e campani le bellezze artistiche e tradizionali di Torre del Greco. Questo e molto altro nei nostri servizi. E' scattato il Vax Day in tutta Italia. I vaccini contro il Covid-19 sono arrivati al nostro paese già a Santo Stefano. Ieri sono state somministrate le prime dosi a medici, infermieri e operatori sanitari delle principali strutture ospedaliere, come lo Spallanzani di Roma. Scortati alla Guardia di Finanza, i vaccini sono arrivati anche in Campania il 26. La campagna di vaccinazione è iniziata, come nel resto della penisola, dalle strutture sanitarie, con massima priorità a chi, giorno dopo giorno, entra in contatto con il virus. De Luca ha seguito l'avvio delle vaccinazioni nella tenda allestita all'esterno dell'ospedale Cotugno di Napoli e poi è andato in riunione con il direttore generale Maurizio Di Mauro. Al termine dell'incontro, De Luca si è sottoposto al vaccino nella direzione dell'ospedale napoletano e poi ha pubblicato su Facebook la foto dell'iniezione, scrivendo Mi sono vaccinato, dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il Covid-19 e tornare alla vita normale, senza abbassare la guardia e rispettando le norme. Dopo questa scelta è scoppiata la polemica, capeggiata al sindaco di Napoli Luigi De Magistris, in costante contrasto con il governatore. Trovo davvero inqualificabile e indegno l'abuso di potere del presidente De Luca, che approfitta del suo ruolo istituzionale per vaccinarsi quando il vaccino, nelle prime settimane, deve essere destinato esclusivamente a medici, infermieri, operatori sanitari ed anziani dell'RSA. La salute del presidente De Luca, conclude il primo cittadino, viene purtroppo prima del popolo campano. Si dovrebbe vergognare e chiedere scusa. Critico anche l'europarlamentare e dirigente nazionale di Forza Italia, Fulvio Martuscello. De Luca ha saltato la fila, non aveva alcun titolo per togliere una fiala a un operatore sanitario, eppure lo ha fatto, senza decenza, senza rispetto, arroganza al potere. Ironica anche la Ciarambino, del Movimento 5 Stelle. Il comandante non dovrebbe essere sempre l'ultimo ad abbandonare la nave, dopo aver messo in salvo la vita di tutti? In difesa di De Luca è accorso Mario Casillo, capogruppo del Partito Democratico. La decisione del presidente Vincenzo De Luca ai vaccinarsi rappresenta un gesto coraggioso e allo stesso tempo volto a lanciare un messaggio di rassicurazione nei confronti della popolazione. Insomma, un invito ad aderire alla campagna vaccinale. Al netto delle polemiche, alle ore 14.30 ieri erano state somministrate tutte le 720 dosi di vaccino Pfizer arrivate in Campania. Prossimo appuntamento al 12 gennaio per la prova generale di tutte le strutture sanitarie in vista della campagna su vasta scala. Dobbiamo puntare ad avere il 100% dei campani vaccinati, commenta De Luca, superando elementi di disinformazione o di incertezza che si sono diffusi negli ultimi giorni, anche in relazione alla scoperta di varianti del virus. Chiusure e restrizioni hanno caratterizzato i giorni di festività appena lasciati alle spalle. Dal 24 al 27 dicembre, infatti, la regione campania, come tutto il territorio nazionale, è stata assoggettata alla zona russa. Non sono mancati controlli a livello nazionale da parti delle forze dell'ordine. Solo nella giornata di Santo Stefano le persone controllate su scala nazionale sono state poco più di 64 mila. Lo si apprende dai dati del Ministero degli Interni, che fa sapere anche di 969 sanzionati e 8 denunciati per aver infranto la quarantena in casa. Sono state invece poco meno di 12 mila le verifiche sulle attività e gli esercizi commerciali, che hanno portato alla chiusura di 5 negozi e a sanzioni per 30 titolari. Da oggi, 28 dicembre, tutta Italia torna nuovamente alla zona arancione, così come prestabilito dal DPCM Natale, firmato in prossimità delle festività dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Provvedimento che avrà efficace fino al 31 dicembre, giorno in cui lo stivale tornerà a tingesti di rosso. Fino a mercoledì si tornerà allo scenario antecedente al giorno 24. Sarà dunque evitato spostarsi fuori dal proprio comune di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative o di salute. Nuovamente consentiti invece gli spostamenti all'interno del proprio comune, mentre gli esercizi commerciali potranno riaprire, eccezion fatta per bar e ristoranti. In questi giorni, inoltre, già si guarda a ciò che sarà dal 7 gennaio. In particolare la Regione Campania studia la ripresa delle attività scolastiche. Sono cose che mi fanno impazzire, chiosa il Presidente Vincenzo De Luca. Come si fa a dire? Si apre senza verificare il 3, il 4 gennaio la situazione. In Campania non apriamo tutto il set. Valutiamo un passo alla volta il rientro, aggiunge il Governatore, ma certamente non mandiamo in blocco il 50% a scuola. A Torre del Greco, durante le feste, è stato riscontrato un aumento dei casi di contagio. Nei giorni dal 24 al 27 dicembre sono 72 cittadini in risultati positivi al Covid-19, registrate anche 24 guarigioni. Muta dunque il bilancio dei casi di contagio nella città. 42 cittadini ospedalizzati, 263 in isolamento domiciliare, 2137 guariti e 61 deceduti. Il bilancio dei contagi riassicura i cittadini di San Giorgio a Cremano. Dai dati emersi il 24 dicembre sono solo 52 cittadini attualmente positivi nella città, tutti posti in isolamento domiciliare. Un numero esiguo rispetto ai picchi raggiunti il mese scorso, annuncia il sindaco Giorgio Zinno, che deve tuttavia rappresentare uno slancio alla prudenza e non ancora un traguardo. A Torre annunziata nei giorni 24 e 25 dicembre è registrati 29 nuovi casi di positività al Covid-19 e 24 guarigioni. Sono 167 i cittadini attualmente positivi, 154 posti in isolamento domiciliare e 13 ricoverati. Sala in 1.356 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 1.161 guarite e 28 decedute. La notte scorsa la squadra mobile ha proceduto alla cattura del latitante Di Martino Antonio, già gravato da precedenti penali, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel 2018 dal GIP di Napoli, in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Di Martino è ritenuto ai vertici dell'omonima organizzazione criminale operante principalmente nel territorio ridosso dei Monti Lattari e in particolare nei comuni di Gragnano, Pimonte e Castellammare di Stabia. Il ricercato già in passato è sfuggito ai tentativi di cattura da parte delle forze dell'ordine. Nel 2013 si diede alla fuga dopo aver violentamente aggredito una pattuglia dei carabinieri che lo aveva fermato per un controllo. Nel 2015, intercettato da una pattuglia della polizia stradale, riuscì a fuggire dopo essersi lanciato nel vuoto da un cavalcavia dell'autostrada A16. Nel 2018 si è sottratto all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare per cui è latitante, gettandosi nell'area boschiva di Aecente. Le lunghe indagini della squadra mobile hanno evidenziato che saltuariamente l'uomo ritornava presso le abitazioni riconducibili al suo nucleo familiare, sito nel comune di Gragnano. Proprio in quei luoghi dove l'intervento è reso particolarmente diffruttoso dalla fitta boscaglia, dalla presenza di cancelli agli ingressi, di cani di grossa taglia e di sistemi di videosorveglianza, questa notte è stato tratto in arresto dagli investigatori. Al lato dell'intervento, l'indagato si è dato nuovamente alla fuga, nascondendosi all'interno dell'area boschiva di Aecente all'abitazione, dove è stato rintracciato dopo circa due ore. Disoccupati, destinatari del reddito di cittadinanza, è in possesso di 177.000 euro in contanti. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Napoli, che ha denunciato per ricettazione due coniugi di Cercola. In particolare, i finanzieri del gruppo di Nola, nel corso degli ordinari servizi di controllo, hanno fermato e perquisito il veicolo sul quale viaggiavano i due, rinvenendo circa due chili sigarette di contrabbando, nonché una borsa contenente 47.000 euro in contanti. Le conseguenti perquisizioni domiciliari hanno permesso di scoprire nella loro abitazione ulteriori 130.000 euro, nascosti nei cassetti e negli armadi, tra i capi di abbigliamento. Si tratta di due pregiudicati, entrambi con precedenti per contrabbando, disoccupati. Dai successivi approfondimenti, condotti in stretta collaborazione con l'Inps, è emerso che gli stessi risultavano precettori del reddito di cittadinanza. Risultando formalmente nullatenenti, avevano già percepito 8.000 euro. L'arte, la tradizione e la cultura di Torre del Greco, in una mostra virtuale accessibile a tutti in ogni momento, è lo spirito di Virtuarte Octava, la mostra allestita nei sontuosi spazi di Palazzo Baronale e di Villa Macrina e visitabile online, a partire dal 24 dicembre. Qual è la missione in particolare di questo evento? L'evento, anzitutto, si pone, diciamo, come alternativa a quello che è il momento particolare che stiamo vivendo. È un esperimento che ci permette, nello stesso momento, di rendere la città planetaria. Virtuarte viene presentata come eccellenza della città, è vero, però nello stesso momento Torre è una città di mare, è una città abituata agli scambi, scambi non solo commerciali ma anche culturali, ospitiamo pure artisti che vengono fuori dal territorio cittadino ma dal territorio, diciamo, regionale. Quanto è importante mantenere viva la tradizione anche in un Natale all'insegna della sobrietà a causa dell'emergenza Covid-19? Torre del Greco è una città come tante del comprensorio vesuviano, quale può essere Ercolano, quale può essere Portici, Torre Annunziata, che da circa dieci anni, se non più, subiscono un calo demografico. E la cosa, diciamo, è strana perché uno dei motivi di questo calo demografico è quello della mancanza di lavoro, ma Torre del Greco, proprio grazie alle sue tradizioni, ha il lavoro. Basta parlare del corallo, cioè Torre del Greco è il top a livello mondiale, corallo e camei, ma pure l'arte presepiale e pure un input ai giovani a dire guardate che cosa abbiamo sul territorio. Io invito qualsiasi persona si colleghi al sito della mostra di non vederla una volta, perché questo è il bello della mostra, cioè si deve scoprire poco per volta. Voi immaginate che solamente in Palazzo Baronale che abbiamo dedicato all'arte presepiale e ai camei, abbiamo qualche cosa come 35 artisti fra le due sezioni. 35 artisti e circa 60-70 opere, ora non ricordo con precisione, dove le devi andare a guardare una per una, scoprire una per una. Cioè il presepio lo vedi tutto assieme, ma poi è bello il particolare che te lo vai, abbiamo le schede sugli artisti. La partenza è stata la vigilia, comprendendo solo l'arte presepiale a Palazzo Baronale, ma in questi giorni è visitabile anche l'esposizione di Villa Macrina. Tra Natale e Capodanno gli utenti, i torresi e non solo, io spero soprattutto tanti torresi che sono all'estero, ma anche i non torresi, potranno accedere poi a Villa Macrina. Villa Macrina è pittura, con due stanze poi dedicate a quelli che sono stati i due grandi artisti della città, Vincenzo Gigiano Borriello e Salvatore Flavio Ratti. Questa esposizione, seppur virtuale, risponde a tutte le aspettative della Prologo, risponde ai nostri scopi, alle nostre finalità. A noi interessa la promozione del territorio, la promozione delle eccellenze locali, la promozione del nostro patrimonio storico-culturale. È un momento che noi a Torre del Greco abbiamo voluto mantenere le tradizioni inalterate, dalle luci natalizie per tutta la città, a quello che è praticamente il proseguo di tutto quello che abbiamo fatto di bello l'anno scorso, con il presepe, il museo all'interno del Palazzo Baronale, ed oggi lo portiamo nelle case dei nostri concittadini con il virtuale. Quindi il presepe, che è un punto fondamentale per il Natale, e le bellezze, quella che è l'arte presepiale dei torresi, degli artisti, noi le manteniamo inalterate e con questa riproduzione virtuale ogni cittadino può ammirare la tradizione, la lavorazione dei pastori, come si fa un presepe e di tutti questi artisti che praticamente continuano a vivere questa tradizione con la città di Torre del Greco. Abbiamo ritenuto anche quest'anno di mettere in piedi come amministrazione un cartellone di eventi che avesse quale scopo principale quello di veicolare l'immagine e le eccellenze della nostra città. Abbiamo ritenuto giusto comunque mettere in vetrina quello che è l'artigianato torrese. Qual è la risposta dei cittadini a questo tipo di manifestazione? Abbiamo avuto un riscontro importante. Relativamente a questa mostra in 3D è stato eccezionale il lavoro che ha fatto la Prologo che ci ha affiancato in questa iniziativa. Quindi un ringraziamento va a loro, va ai nostri artigiani che hanno messo a disposizione le loro opere. Un ringraziamento va anche a chi da fuori regione ha voluto comunque riconoscere questo primato culturale della città di Torre del Greco. E grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci a redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 65 61 484. E con questo è veramente tutto. Io vi do l'appuntamento a domani con nuovi servizi. Grazie a tutti.